Bella ragazzi sono Marzo e oggi sono qui con voi per un altro video su quella, non so neanche come chiamarla, quella roba dei quiz insomma visto che il primo vi è piaciuto così tanto ho deciso di portarne un altro, io vi ricordo nel caso questo video vi possa piacere di lasciare un mi piace, un commento, qui sotto in descrizione ci sono i miei vari link per seguirmi Snapchat, Instagram, Facebook o Fanpage sia al profilo mio che alla Fanpage insomma e vi lascio al video, buona visione eccoci ragazzi direttamente con il video, l'ultima volta non vi ho detto come si chiamava l'app che si chiama Trivia Crack Kingdoms insomma questa per capirci, l'ultima volta abbiamo fatto la campagna e il quiz, questa volta a grande richiesta da voi lo faremo su me la godo e me la godo sia, passiamo subito quindi alla prima domanda diciamo questa, questa domanda è una domanda quindi normale chi tra questi non ha partecipato al torneo FIFA Foot me la godo 2016 mollo questa era abbastanza semplice vediamo la seconda, vediamo di riuscire a fare bene qua almeno ragazzi perché sulle campagne non è stato facile perché nelle drogocorse Ron prende sempre la macchina rossa, oh cazzo questa non la so, la salto, ho paura per quale squadra è? Milan grande Gabbo che è milanista come me quella di Ron ragazzi non avevo idea comunque mi stanno arrivando le cose su di Instagram poi ho messo una foto da poco, mi dispiace ma non so come farse no Darkaccia abita nella stessa città di quale youtuber? e forse Gabbo? Si, e dall'accento me la, più o meno me la ricordavo Ia ha fatto uno scherzo telefonico dicendo di essere incinta di un bambino di cui padre Ron, a chi l'ha fatto? Laila? No a Dread fanculo non l'ho mai visto, andrò a vederlo questo video perché mi incuriosisce allora sfrutteremo una partita già iniziata perché ho poche vite E voglio cercare di portarvi più cose Possibile Chi di loro ha vinto alcune competizioni Di videogames a livello nazionale Penso a Ron È l'unico che faceva tipo clan war Robe simili mi sa In che anno Just Ron ha vinto il suo primo torneo FIFA foot me la godo Forse l'anno scorso Ah no no Quest'anno perché l'anno scorso è arrivato secondo È vero poi l'anno scorso c'ero anch'io In realtà oh corona Non perdona Chi è Matteo Piccarazzi Easy Finchè andiamo su questa domanda ragazzi si può fare bene Abbiamo portato la prima corona a casa contro Vittoria Ciao Vittoria Chi lo esce sempre Come chi lo esce sempre Che cazzo di domanda per vedere Frax Frax esce il cazzo Big visual lo chiameremo così Chi ha meno iscritti Penso Deluxe Ila No ma è sbagliata questa regà A meno che non sia una domanda strana Però a livello di numeri Deluxe ha meno di 100.000 iscritti E Ila li ha superati Quindi non lo so Avendo finito le vite ragazzi Devo aspettare che qualcuno di loro Mi risponda E cercare di andare avanti Quale youtuber aveva un canale chiamato James Bicicletta Bella domanda questa No Fuzz non è Non penso Frax? No Dread Cazzo Matteo Piccarazzi Che stronzo Ovviamente ragazzi ci stanno rispondendo in fretta Abbiamo preso una bella Coroncina Cosa manca A questa foto La La caffettiera La caffettiera del Dread and Breakfast Oh l'altro re Che culo Qual è stata la prima La prima partita Del torneo FIFA foot Me la godo 2015 Non me la ricordo Potrei essere stato anche io Doppia chance Mettiamo io Non ero Sì Che culo Chi ha fatto il gol più bello Nel campionato FIFA foot Me la godo 2015 Joman Tipo la punizione era Una cosa del genere Che colore utilizza Frax Nelle sdrogo corse Bella domanda questa Arancio? No Marrone torrente Dai Frax di merda In collaborazione con quale altro youtuber I me contro te Hanno fatto il video Obbligo verità estremo Sì Che cazzo ne so Bufa BG No Simone Paciallo Allora ragazzi Ho dovuto aspettare un minutino Così che uno di loro Mi rispondesse Perché non ho più vite Come vedete Spero Vedete Però Possiamo adesso Rifare una cosa Ho trovato subito Il re Direi Non male Chi dice sempre PG Nelle sdrogo corse No PG Sarà BG Che è mollo No è Fuzz Ma è BG Regà È bad game Non PG Vabbè sti cazzi Dai ci sta Nel frattempo mi ha risposto Anche un'altra persona Ormai troviamo solamente Re E che è buono Che lavoro faceva Dread Prima di Youtube Il bar Man Chi ha vinto lo speciale Dei 700k Di Ron Su Black Ops 3 Mo Ron No Zamp Ha vinto Ma fa schifo Zamp Come ha fatto a vincere Quando è stato creato Il canale di Melagodo Penso 2011 2012 Cazzo Non ne so Una Questo l'ha creato Johnny Creek Però ragazzi Cioè lo dovrebbe sapere lui Perché lui l'ha creato Poi siamo entrati dopo A farne parte Ritorniamo contro il nostro Roberto Morena Siamo 2 a 2 Cerchiamo di fare bene Di che colore la caffettiera Del Dread and Break Fa rosa Vai ragazzi Non me ne frega un cazzo Adesso vinciamo eh Regà Mo vinciamo Gioca adesso Quanto era finito Il match Italia Contro Germania Ron Dani Battle L'Europa 2016 E mi sa 4 a 0 2 a 0 Ha vinto Ron 2 a 0 Bastardo Ron di mer Nel frattempo ragazzi Che mi risponde qualcuno Là un po' di figa Non fa male Siamo ancora noi Contro Roberto Morena Abbiamo trovato il re Roberto Sei fottuto Roberto Dove abita Zamp A Yesi Sei fottuto Sei fottuto Questa la vinciamo Regà eh Guarda subito il re Cazzo no Chi fu bannato Da Youtube Gabbo è stato bannato Perché hanno bannato Gabbo Per quale ragione Farmi i Roll Super Saga Lo sto installando Questa volta è Vincenzo M Vincenzo M Che sarà purgato Dalle mie dita Quale tra questi È fortemente Devuto a Dio Blur Questa è facile Chi tra questi Ha lo stesso nome Di Gabbo Yoman No ma ci sono anch'io Cazzo Su quale di questi giochi Fuzz Non ha mai fatto un Let's Play Assassin's Creed Sì The Witcher Sì Dark Souls Red Dead Redemption È la risposta Abbiamo il nostro re E ce lo portiamo avanti Quale tra questi Youtuber Privilegia le skill La FIFA Sarà Ron Sicuramente Vediamo un po' Quali tra Quali youtuber Fanno dissing A Anima e Ciccio Gamer Che domanda è questa Per quali serie Per quali serie Just Ron È stato nominato Agli Web Show Awards 2015 Nella categoria Top Console Gameplay Io suppongo Il FIFA Ad obiettivi Perché è quello Più famoso Che porta Come si chiama Realmente Zamp Andrea Gianfranceschi E ci portiamo Un altro punticino A casa Contro Vincenzo Come si chiama La storica serie Di Fuzz Su Call of Duty Il Road to Pd Che sarebbe Porco Dio Tra le altre cose Fa parte di me La godo? No Ancora una volta Su Roberto Questo qua C'ha una corona In più di me Chi tra i seguenti Ha una rinomata Somiglianza Per Abate È Ron Chi è che spezza i biscotti Noi sui video? Dread Vai ragazzi Vai No Non me ne frega un cazzo Ragazzi La vinciamo Non ho preso Neanche il re Ma c'ho Il 55 Chi di loro Non ha mai avuto Un secondo canale Ron Sì E beh c'aveva i canali vecchi Però che usava più o meno Come secondi Allora Qual è il lavoro Che fa Zamp Oltre a Youtube Il fotografo Ma Vabbè Lavoro Adora farlo Ma non so se è realmente Un lavoro Oh il re Possiamo vincerla Chi sono i protagonisti Del video La caduta del campione FitFut Fa me la godo Fufa FitFut FIFAFut Me la godo Questa la so Ve la faccio insieme Baffanculo Hai vinto E ragazzi Questo video è finito Io spero vivamente Che vi sia piaciuto Nel caso fosse così Lasciate un mi piace Un commento Seguitemi nei miei vari Social Qui in descrizione E ci vediamo Alla prossima Tu vuoi sapere Chi è il king Sa solo come Pulse Prince Tieniti tuoi Ognon Rins Piare pagate